Con la legge di bilancio 2022 è stato definitivamente istituito l'assegno unico per i figli minori che, con la mensilità di marzo, entrerà in vigore anche per i lavoratori dipendenti. La misura, introdotta lo scorso luglio in via transitoria per autonomi e disoccupati, con l'estensione anche alle famiglie di lavoratrici e lavoratori dipendenti, diventerà adesso definitiva. Una novità non di poco conto per abruzzesi e molisani. Nella nostra regione, secondo una stima della CGL, a beneficiarne saranno 34.000 famiglie a Pescara, 39.000 a Chieti, 30.000 all'Aquila e 32.000 a Teramo ed in Molise 20.000 a Campobasso e 8.000 a Disernia. L'assegno unico da marzo andrà a sostituire detrazioni ed assegni familiari che non verranno più erogati in busta paga mensilmente. Così, come non saranno più percepiti singolarmente l'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori, il premio alla nascita ed il bonus bebè, sarà l'Inps a liquidare direttamente tramite bonifico gli importi dovuti a ciascun nucleo familiare. Per ogni figlio minore saranno riconosciuti da 50 a 175 euro mensili con maggior azioni in caso di disabilità, famiglie con più di due figli, madri con meno di 21 anni o genitori entrambi lavoratori dipendenti. Verranno inoltre riconosciuti degli importi, seppur in misura ridotta, per i figli da 19 a 21 anni. Per stabilire l'importo a cui si avrà diritto, prima di inviare la domanda di assegno unico, sarà necessario compilare la dichiarazione Isee con i redditi relativi all'anno 2020. La domanda andrà inviata entro il 28 febbraio. Qualora non si facesse in tempo, si può recuperare fino al 30 giugno, data ultima entro la quale l'Inps riconoscerà anche gli importi arretrati a partire da marzo. Se invece si decidesse di non presentare l'Isee, si potrà comunque richiedere l'assegno. L'Inps in quel caso riconoscerà l'importo mensile più basso pari a 50 euro per figlio.